Bella a tutti ragazzi, sono JGS in compagnia di Vincenzo2307 che è Winshadow su YouTube in compagnia di Samu, il peer del quartiere, ecco E come potete vedere, aspetta, Vincenzo mettiti vicino me Siamo due volte Ehi, due volte sclerate Siamo nel mondo di Vincenzo Come potete vedere lui e Rossi, io sono l'ultimo entrato Comunque, eh, Vincenzo, dammi da mangiare Aspetta, aspetta, aspetta Vi svaliggio la casa se non me le date la ma... Perché bug? Non sapevo coprirlo Allora, facciamo un'altra cosa, vediamo se No Ok, vi sono fatto un pisonino Vai, dai, andiamo a fare niente Dorniamo Oh, è stato un bello con un cerchio Che porco Questa casa è molto poco illuminata E adesso dobbiamo andare Ecco, ora andiamo nel... andiamo in una grotta Io non c'ho picconi, non c'ho spade, non c'ho armature E manco noi Manco noi Ok, andiamo in una miniera a fare un corno Perché non c'abbiamo un corno Evviva Brutto Piggy, vieni qui che ti faccio un panino di Piggy Ma che cavolo, moris tu del gioco Eh, prima di tutto mi sa che ci dobbiamo fornire di cibo Vieni qui che ti ca... No, ma hai fregato il Piggy brutto porco Vieni qui che se ti prendo Ti riduco in una cotoletta fritta Ma ragazzi, io sento rumori di zombie Bambino cattivo Bambino cattivo Riuscirò ad uccidere Samu prima che Samu muoia? Non iscrivetevi al mio canale anche Mi chiamo vinciano il tuo gioco No, 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 ecco la tua mattelette, no Oh, a dirlo, no Per dire, sono a dirlo Faccio te principalmente i video su... Video games Ah, mi chiamo, la mamma matteletta Buongiorno a matteletta Salud Basta, c'è un cuore Guardate la cratinità di questo gioco Guardate la cratinità La cratinità, proprio, madonna La cratinità La cratinità La crinità La crinità Mai di language Vabbè, lasciamo perdere il spagnolo L'inglese, per te Non è... Gli ho fregato un paio di particolari Gli ho fregato No, brutto porco Dammina ma Ma che buon Natale Buon Natale, buon Natale Natale arriva tra... 25 giorni Oh, ridammi la mia mamma, vince Ridammi la mia mamma, Samu 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 No No Mi sa che è la cosa migliore Non lo so Vieni qui, Samu ti casco Samu... Vi lascio, vi lascio le cose che avevate, ok? Ok Samu, trego, trego, scusa Samu Sì, non ho capito Vieni partite un paio di pulmi Allora, questa è la mia Questo è la mia Questo è la mia Questo è la mia La mia mappa Tu vuoi che altro? Oh, no Ti ha fregato la mia giunica di pelle Ridammi No, io non l'ho presa Eh, è mia Non l'ho presa Ma come si fa a colorare le giacche, raga? Allora ce l'hai tu Te lo dico io, prendi il colorante Eh, vai con il tastino sopra La tonica e premi il quadrato Con il tastino Brutto mafioso dalla voce del mafioso Allora, finisci Allora, sto tanto di merda, com'è? Ma ragazzi Ti dà una voce da Andiamoci Andiamoci Che ti va a save in pagina E non mi rompere tutti i scatoi Ragazzi Ti do una voce da Ma Ma Ti castro Samu, ti castro Questa è una spada mia Una spada è mia Una spada è mia, perché me la son craftata prima Anche la mappa E le lane No, le unici di lane sono mie Le due Oh, no! Guerbocca Guerbocca Che cazzo stai dicendo Ma non so Porco Sembra spagnolo E poi Italiano Ma mi dice che Se parli di italiano forse è meglio Perché con le lingue ci hai messo Brutto Porco del cacchio Ci si mette anche il lupo Ragazzi 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 Sentite questa battuta Ma se Gioco a Tris Su una bottiglia di vino Gioco a San Trispino Pino Che forco A me me l'hai già detta A me mi fa sentire un trovato Ora Paga io devo staccare Ciao Addio Samu E' rimasero solo più due youtuber E' un panino Però senza panino Gli hai fregato la tunica Gli hai fregato la tunica Cosa Che fai Ti tagliavo il legno Ma io ho perso casa Ce so io dove Seguimi Dove sei? Eh Mi sto andando Ma io non ti vedo Che testa di cavolfi Ora moffi Te sei Vabbè Ehm Stai andando da tutta altra parte Stai fermo Ragazzi comunque Visitate i nostri I due canali Che lascerò Allora Uno Il video verrà caricato direttamente sul mio canale Quindi Non avrete bisogno di guardare il video E L'altro verrà Il suo verrà lasciato in descrizione Quindi Lasciate un bel like Guardate i nostri video Iscrivetevi Che Sperando che In una delle prossime puntate Sperando di non tanti giorni dopo Ci sarà anche PJ Quindi Per lui che non conosce PJ E non sa neanche del mio canale PJ è il mio compare E facciamo il canale di tutti e due Wow Quindi Comunque ragazzi Allora Io Una promessa Io ho fatto solamente un video Però Vorrei Vorrei spiegarvi Io non ho la possibilità per ora di fare Cioè di Di fare video Ma non perché Non Cioè Non ho soldi Anzi No Più che altro Non so che materiale comprare Se passate sul mio canale Se passate sul mio canale Al primo video Potreste Dirmi Come farli Cioè Oltre il Metodo di PJ J.S. Eh J.S. G.P. Molto G.P. Molto Quello là Ma vatti che fai Vatti a fare un giro Vatti a fare un giro Vabbè Comunque Questa è la premessa Se entrate nel mio canale Perché Comunque L'altro La seconda cosa E' che Se Ci vedremo Spesso Vedrete spesso Vincenzo Nel mio canale Sul mio canale E Tenteremo di fare Tipo Due canali aggemellati Finchè lui non riuscirà E poi faremo tutti Episodio speciali Tra Youtube Insieme Lui ha 10 iscritti Io ne ho 11 Quindi Però non vogliamo fare gare Io almeno Non voglio fare gare Poi lui non so cosa voglio fare Se si vuole suicidare Magari Se si vuole suicidare Voglio una foto di Lunga morta Ok Non ho capito Mi chiedo di che ti stai parlando No No Non so se volevi fare una gare No Niente Sto parlando in senso figurato Senti Va beh Cibo Cibo Ti ho pregato la cotoletta Ma che caro Stiamo facendo una cosa sensata o facciamo i drogati di strada? Vincenzo Vincenzo No Non è che Amici Seguitori Quelli che ci lasciano Che si iscrivono Quelli che lasciano almeno un cacchio di like E come dico sempre io Lasciate un bel like e vi do una pizza Eccolo qua Per esempio Io darei davvero una pizza ai miei fan Però Sembra una cosa troppo Se avrò dei fan In futuro Anche se faccio un po' pegare Io spero un giorno Di avere il mio store personale di magliette Sol Si Molti youtuber hanno cominciato con la serie Con la serie che vendono magliette con il loro stemma E il loro nome Wow Si è una cosa sorprendente Però non esageriamo con i fan eh Non esageriamo con i fan Addirittura fan Se fossimo stati Gabbo e Anima Allora erano fan Se fossimo stati Ed Fox Pezzo 96 Charlie Moon Che Noia Channel Se fossimo stati Oh Matteo Fai E Danny Ryan Questi qui Più famosi Non parlare L'unica persona che mi sta sul cazzo A me Non a lui qui Non lo so È Luke 4316 Io Non lo so Ma mi hanno detto che è davvero un bravo youtuber e voglio vedere il suo canale Ma non lo so Ma non lo so A me invece sta proprio Come ha detto lui Sta proprio così Fa vj Beh vabbè Ma non esageriamo solo perchè ha 759 milioni di iscritti Un milione e qualcosa Un milione e trecento qualcosa Un milione e trecento quattro mila Lo so Raggiungimi che ti devo far vedere una cosa fichissima sulla neve Mmm una cosa fichissima La neve volante Ma dove sta? Ah ecco E portami del cibo che ne ho bisogno Subito Ma che cazzo Ma perchè? Cosa? Ah ma ciao Hai visto che figo La neve volante c'è Ti ho lanciato una bistecca però vabbè Nooo Dov'è la mia bistecca? Dammi la mia bistecca La mia bistecca ti castro Sii la mia bistecca Mi stupro la madre Adesso sono Solo mettete un like Ragazzi vi do tre secondi per mettere un like Dopodichè mi stupro la madre Di chi? Due Tre No Ma la madre di chi? Non troverete E gli fanno che non metterò E tu non mi picchiare mentre rompi la neve Da maleducati Se non mettete like Adesso che non vi trovate più amore Scusami E Casa? Eh 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 Ok raga Lasciate un bel like perchè abbiamo perso casa Bruto zombie di castro Zombie Aiuto Ho mezzo cuore Ok Oddio E non ce n'è più Il cuore Vincenzo Ah beh Ma dai Un tizio di nome Vincenzo è arrivato addosso Ah no è stato un proiettile di uno What? C'è successo questo? Comunque ragazzi Lasciate un bel like perchè io sono stressato e stanco Per il fatto che io Eh Ho fatto Ho girato lungo l'aglio tutto il giorno Sono andato dal dentista con mia madre Perchè mia madre doveva andare dal dentista Ho comprato Ehm Ehm Far Cry Lì Tizio Far Cry Lì 4 Ecco non vi veniva più il numero Oh E' copyright Cosa? E' copyright che dici il nome di giochi eh? Vabbè Ah beh tu tre ore che dici Minecraft Tre ore che dici Minecraft tizio E' bugia Io non l'ho mai detto Minecraft Ora vabbè Non è vero non è copyright Copyright è se puoi sentire una canzone Senza i diritti d'autore Vabbè Vabbè Allora metteremo le canzioni dei primi Vabbè Allora metteremo le canzioni dei primi Comunque raga Spero che questo video vi piaccia perchè Io non so Ehm Sono nuovo su un mondo di youtube quindi Io ce l'ho da Più di un anno il canale Ho fatto veramente schifo E se ce l'ho metto 11 iscritti Guarda che fai Porta rispetto brutto plebeo Io ce l'ho da un mese e ce l'ho già 15 iscritti Stai zitto plebeo del cacchio Vieni qui che ti castro Ok basta deciso Ti castro con un osso Così al posto dei testicoli Libertà Che libertà Creepertà E la libertà dei creeper Hanno anche loro libertà di parole sai no? E di esplosione purtroppo Hanno anche libertà di esplosione La libertà di esplosione è un diritto Difendi la creeperaggine dei creeper Difendi È una malattia Ragazzi lasciate un bel like Questi like contribuiranno a Vedere altre morti su minecraft Tramite ossa a Vincenzo Lasciate un like tra 3 2 1 Stupor Mi hai ucciso C'è sotto una 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 C'avevo mezzo cuore E io ce ne avevo uno No Minchia Qui Vincenzo Vincenzuccio Vieni qua che ti uccido in 3 seconducci Chi Quanti cacchi di cuore c'hai? Quanti cacchi di cuore c'hai? Per ora ci ne va solamente tre, cioè quattro Guarda però non so dove è casa Che tu palle Dove è casa? I vostri like contribuiranno alla malattia di qualcuno Che borg Ragazzi lasciate un like Allora ragazzi lasciate un like oppure io su dove vivete No, no, perché io ho fatto una minaccia di morte e tu non la puoi fare Ma che minaccia di morte? Tu hai detto contribuirai a salvare le persone da una malattia No, prima l'ho detto, prima l'ho detto Se non lasciate un like vi sto provando Se ho preso i codi per mettere i like di nuovo Sì Il legno contro spada Corri Quanti cuori c'hai? Qualcuno Mi sei bloccato? Dai che c'ho tutta quella roba Perché c'è uno scheletro in casa? Perché hai lasciato la porta aperta? L'hai lasciata tu o la porta aperta? No Sì Tu sei spavano per ultimo Ecco, spiudo la porta in faccia E vieni a rinforzare la porta Monty, ora No Ora No Ma quante commedie che ci sono il giorno d'oggi Si espello dagli amici Ma come l'hai ancora accettato la richiesta di amicizia? Ma beh, è quella la cosa bella Che io ti castrano fra poco? E questa è la cosa bella No, è il fatto che ti castri da solo ogni giorno Ciao, vieni Dammi la roba, per favore Mi stai prendendo in giro? Mi dai la roba Diciamo che ti darò un 0,1% della tua roba Tieni, ciao Oh Dammi la roba Non mi costringe ad ucciderti, stai bravo Allora ti do Dammi la roba, tutta la mia roba Pure il giacchettino rosso No Sì 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 Continua Giacchettino Giacca Dai, ma non ti ho ucciso Di due colpi Dammi la giacchettina Dammi la giacchettina Dio Come a bonga Il bello è che adesso non ci facciamo più sforzo Come a bonga E io Dammi la giacchettina Facciamo tipo League of Legends, tu resta là Io resto qua Ok Ti dico io quando attaccare Ok Ma siamo a 5 cm di distanza Vattene Io non ho un cazzo Lo mi fa prendere Ho una notizia per te, mi sono fatto anche l'elmo adesso Ehm 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 Grazie a tutti